Dopo un 2023 archiviato con 200 richieste di posti nei nidi di infanzia costretti a dirottarsi in lista d'attesa, i servizi educativi del Comune di Pesaro continuano ad avere le mani legate sull'utilizzo dei fondi necessari ad ampliare le risposte verso questa domanda crescente. Una frustrazione esternata oggi in municipio dall'assessora Murgia, dai rappresentanti delle famiglie, dai consiglieri comunali Mattioli, Vitali e Nobili e dai consiglieri regionali Vitri Biancani che hanno vissuto in prima persona una aumento di fondi in regione annunciato lo scorso dicembre ma che nella realtà dei fatti si proietta su una politica di voucher che non consente di ampliare i posti nido. Quello che preoccupa moltissimo di questa azione regionale è non solo la superficialità e a volte anche la fretta con cui vengono fatte alcune e prese alcune decisioni ma l'impossibilità di utilizzare questi fondi, questi 4 milioni che hanno annunciato tramite i fondi FSE per rispondere ai reali bisogni delle famiglie. Le famiglie della nostra città, del nostro territorio hanno bisogno di posti nido, posti per i bambini e bambine 0-3 anni. La regione risponde erogando dei voucher e consentendo ai comuni di prolungare gli orari di frequenza. Cosa importantissima, noi non neghiamo questa possibilità e anche questa manovra come utile ma la libertà e anche l'indicazione nazionale da parte dello Stato sui fondi 06 è lasciare ai territori la libertà di utilizzo su questi fondi che noi andiamo a rivendicare. Nello specifico al Comune di Pesaro servirebbero 2 milioni di euro per rispondere ai 200 bambini in lista d'attesa per i nidi a oggi frequentanti le scuole della città. Presente in Comune anche Andrea Baroni, rappresentanza di Confindustria che sta mettendo a terra politiche di welfare sociali lodevoli ma che non possono coprire quelle emergenze che solo la spendibilità dei fondi regionali potrebbe attenuare. A fine dicembre quando abbiamo approvato il bilancio di previsione ci siamo accorti che non c'era un euro, 0 euro per i servizi educativi 0-6 anni e quindi in consiglio regionale io sono intervenuta protestando non potevo credere a ciò che vedevo nero su bianco. Erano rimasti stupiti devo dire anche il presidente Acquaroli e altri suoi colleghi di maggioranza. Poche ore dopo è arrivata una risposta, mi è stato detto che i fondi li avrebbero trovati dai fondi sociali europei e che addirittura li avrebbero aumentati passando a livello regionale da un milione e mezzo a 4 milioni e quindi abbiamo ringraziato. Andando poi a vedere la delibera di giunta abbiamo visto che queste risorse venivano prese solo ed esclusivamente dal fondo sociale europeo che purtroppo è vincolato, può essere usato solo per alcuni scopi e quindi è come se per usare una citazione si chiedesse del pane invece si deserò al popolo delle brioche. Arrivano dei voucher, possono essere usati solo come voucher o per ampliare l'orario pomeridiano ma non possono essere aumentati i posti dei nido quindi per assurdo aumenterà ancora la richiesta ma il comune non ha le risorse per aumentare i posti nei nidi perché questi 4 milioni a livello regionale per tutte le marche sono vincolati, sono assolutamente vincolati quindi noi diciamo bene i voucher, bene le risorse europee che sono lì e le dobbiamo solo prendere quindi bene siano state prese ma non toglieteci l'altro milione e mezzo di euro che è indispensabile anche per ampliare i posti. Mi auguro che la regione possa modificare questi fondi e investire di fondi propri come fanno tante regioni virtuose per le famiglie, per le bambine e per i bambini affinché i comuni non siano costretti a diminuire l'offerta di posti, a rivisitare quella che è la propria idea di programmazione sul servizio e ancora di più dover dare delle risposte negative alle famiglie che continuano a rivendicare questa necessità. Allora a questo punto è vero che la percezione sembrerebbe appunto che la persone investa di più per questo anno scolastico 24-25 e nella realtà investe molto meno perché anche i fondi che erano prima svincolati nell'utilizzo da parte dei comuni adesso diventano vincolati quindi oltre il danno anche la beffa di non poter essere davvero una possibile risposta alle famiglie.